Dalle avventure della serie tv ecco la nuova trasformazione delle Winx, Winx Sofix, Magica Sofix, le loro ali d'argento riflettono la luce magica e rivelano il nuovo potere, fai splendere i loro capelli con il fettine patato, falle volare e vivrai anche tu la magia della trasformazione, Winx Sofix sono solo da Giochi Preziosi Grazie